Direi che questa sera è andato tutto per il meglio perché abbiamo raggiunto la semifinale di questa competizione a cui teniamo tantissimo. L'abbiamo fatto davanti a uno stadio unico, quindi direi che è tutto perfetto. Abbiamo tolto anche il luogo comune. Possiamo dire che la prestazione stasera è stata addirittura migliore del risultato finale? Sì, direi di sì, anche perché il risultato finale penso che in realtà ci sia un po' stretto. Abbiamo avuto veramente tante occasioni per segnare altri gol, che era quello che volevamo, non accontentarci perché all'andata loro avevano vinto, dal mio punto di vista non meritatamente, e volevamo improntare subito la partita per fargli capire che oggi non c'è la storia. Oggi venivano qui per poi tornare a casa e noi invece rimanevamo qui per andare in semifinale. La sensazione è infatti prima della partita, appena siete scesi in campo, che voi già sapevate quello che sarebbe successo. Come se erate consapevoli di poter giocare questo tipo di partita? Ti faccio un esempio, lo spirito anche sul 4-0, la parte tua, dei tuoi compagni, andare a recuperare i palloni, di non prendere gol, di andare a sporcare tutte le seconde palle, anche quando il risultato era già acquisito. Sì, diciamo che questa non era una semplice partita, anche per tutte le cose che sono successe contro questa squadra. Quindi oggi era l'unica partita che contava e abbiamo dimostrato che siamo più forti di loro e che era giusto che noi andiamo in semifinale e che loro vanno a casa. Ti hanno un'ultima cosa al volo, questo è lo spirito che servirà in quest'ultimo mese a partire già dalla prossima sfida in campionato con il Napoli? Assolutamente sì, questo spirito, questa negazione, questa qualità, questa voglia di sacrificarsi. Devono essere un po' tutte le partite che ci aspettano, come questa partita qui. Questo è quello che vogliamo per cercare di lottare fino all'ultimo minuto del campionato, per cercare di arrivare tra le prime quattro, anche se sappiamo che è difficile, e soprattutto per cercare di vincere questa competizione. Grazie.